Salve, sono Alex Ignazio93 e questo è Non Sono Un Potterhead Episodio 7. Ormai abbiamo finito, parliamo dei doni della morte ed è anche Natale, quindi auguri di Buon Natale, viva! Dopo un po' più di due anni, ho cominciato a dicembre 2018, quindi due anni e qualche giorno, vabbè ho finito, ci ho messo due anni per finire questa saga e non parlerò mai più di nient'altro, per me Harry Potter finisce qui, non voglio sentire parlare di animali fantastici, di cose non canoniche tipo la maledizione dell'erede, è finito qua Harry Potter, è finito qui, ma come al solito, prima di accingerci all'analisi dei vari capitoli, e qui ho quasi fatto capitolo per capitolo, quindi non ho idea di quanto dura sto video, vorrei dire una cosa, in generale le mie impressioni su questo libro, so che così rischio di farvi chiudere tutto, prima ancora di cominciare seriamente, ma che palle, che rottura di palle questo libro, è proprio noioso, non me lo ricordavo così noioso questo libro, mi ricordavo che era una scampagnata nei boschi, per la maggior parte del tempo, ma non così, è terrificante, praticamente sono 697 pagine, di cui nelle prime 500 non succede quasi nulla, se non, vabbè, qualche indizio quella, culo ogni tanto, non era una situazione facile comunque da scrivere, e poi tutta la ciccia, tutte le robe, tutte negli ultimi, quasi, le ultime quasi 200 pagine, non c'è equilibrio in questo libro, è pura follia, veramente per essere il finale di una saga che è durata tanti anni, sette libri, è abbastanza deludente, io non ho alcun ricordo di come l'ho percepita all'epoca, perché questo libro, questa edizione del day one, del 2008, giù di lì, l'ho presa proprio, appena uscito in libreria, pam, comprato, e non ho alcun ricordo, se non che una volta finito, io dicevo, ah beh, ok, cioè non è come molti, non per niente questo si chiama, non sono un potterhead, magari alcuni dicevano, oh no, adesso è finito Harry Potter, quando è finito, ho sentito un vuoto dentro, come succede quando finisce una serie tv, che è durata per tanti anni, c'è l'ultima puntata, ah, non so più come riempire il vuoto, ecco, con me con Harry Potter non è successo, con tutto che il sesto libro è il mio preferito, e quindi c'era un'attesa, no, incredibile, però, boh, è molto, molto boh questo libro, non lo considero peggiore dell'Ordine della Finice, perché l'Ordine della Finice è molto più lungo, e come ho detto nell'episodio dedicato, l'Ordine della Finice ha il difetto di avere tante idee e confuse, secondo me, qui l'idea era una, il concetto era uno, cioè la ricerca degli Horcrux, e quella mantenuta, il problema è che è un'idea di merda, cioè, per come... Ora ci arriviamo, con questo fatto che Silente non ha detto molte cose a Harry, è di una lentezza terrificante questo libro, vabbè, basta, perché non voglio essere più antipatico del dovuto, adesso analizziamo capitolo per capitolo, al solito ne parliamo, ci sono state comunque molte cose positive, ok? Ok, inizierei dal capitolo 1, qui in realtà non ho molto da segnalare, se non che è carino questo parallelismo con la professoressa di Babbanologia, che a Villa Malfoy sta per essere uccisa da Voldemort, guarda Piton, e gli dice, Severus, ti prego, che è esattamente un parallelismo con Silente, quindi carino, poi, con senno di poi, che lui ha dovuto fingere, no? Quindi, Piton, uomo forte, personaggio migliore della saga, no, ma ci arriveremo tra un po'. Capitolo 2. Allora, una cosa buona di questo libro è che... veniamo a scoprire il passato di Silente. Per sei libri, per tutti quegli anni, i bambini, i ragazzi, ma anche gli adulti, hanno visto Silente come la figura, proprio il vecchio saggio, no? Quindi la sua morte nel sesto libro è proprio uno smacco incredibile, ma qui la Rowling è molto brava nel prendere questa figura, cioè quasi un santo Silente, no? Silente è tuttora il mio personaggio preferito, però appunto viene considerato quasi un santo, e poi in questo libro ti distrugge tutto, perché prima c'è l'elogio funebre scritto dall'amico di Silente, Elfias Dodge, che dice Silente era bravo, Silente era buono, ha sconfitto Grindevaldè. Poi però arriva la Skitter, che ha pubblicato quella biografia di Silente, Vita e menzogne di Albus Silente, e tu la prima volta dici, vabbè, ma è la Skitter, saranno tutte bugie, e invece alcune cose sono vere o comunque mezze verità. Poi per molto tempo dubiti della famiglia stessa dei Silente, però poi alla fine si scoprono cose, ma non anticipiamo troppo. Comunque è molto bello che per la maggior parte del tempo tu lettore, lettore, lettrice, io uso il maschile, però includo tutti quanti, chiaramente, tu lettore, hai gli stessi dubbi su Silente, quanti ne ha Harry, perché Harry pure dice, ah io pensavo di conoscerlo, in realtà Silente non gli ha mai detto niente, anzi, è già tanto, questa cosa mi ha stupito, che nel corso dei libri, Silente ha parlato di suo fratello, Aberforth, che gestisce il pub, vabbè, quello con la capra, no? Mentre nei film, tipo, è considerato un mistero, perché si vede lì la prima volta, e dici, oh, cosa? Silente aveva un fratello che gestisce un pub, però invece nei libri l'ha detto, almeno una cosa. Nel capitolo 3, vediamo, per la prima volta, e ultima, in questo libro, e a questo punto per sempre, perché la saga è finita, la famiglia Dursley, dei Dursley, è meravigliosa, l'evoluzione di Dudley, che, quando stanno per separarsi, lui inizialmente è confuso, perché pensa che Harry, debba scappare con loro, perché comunque, l'ha maltrattato, l'hanno sempre considerato un mostro, una roba inferiore, ma è comunque suo cugino, è parte della famiglia, e, mentre gli zii di Harry, quando Dudley, chiede, ma perché lui non viene con noi, sono scioccati della serie, ma perché vorresti che questa bestia, venisse con noi, invece Dudley, per una volta, si ribelle sui genitori, e, perlomeno, va da Harry, e gli stringe la mano, Harry lo chiama Big D, che è come lo chiamavano i suoi, come lo chiamano gli amici, anche nel quinto, se non sbaglio, lo chiama Big D, però lì era, in modo sarcastico, per dire che nome stupido, no? E invece qui è carino, e ti fa capire, che la nuova generazione, sarà meglio, della precedente, infatti, Dudley sarà meglio, dei suoi genitori, Draco, Malfoy, qui, beh, qui non ne parlerò molto, però in generale è bello vedere, che Draco, non è per niente, come Lucius, soprattutto come Lucius, perché Narcissa, anche lì e mezzo, eh, Draco pure, non, sarà meglio, dei suoi genitori, molto bello, poi da quello che ho letto, nella wiki, eh, come si dice, Harry e Dudley, ogni tanto, sono ancora in contatto, però, giusto per, per educazione, che comunque va bene, non è che tu devi essere legato, a tutti i tuoi parenti, in una maniera assurda, però è carino, che comunque, si sono mantenuti in contatto, perché, come erano cresciuti finora, potevano anche non, potevano anche non vedersi mai più, poi, capitolo 4, c'è l'operazione dei sette potter, poi vedremo a scoprire, che anche questo fa parte, del piano di Silente, perché Piton, che confonde, Mundungus, vabbè, queste cose le sappiamo, però, mi ha fatto un sacco ridere, questa scena, perché, a pagina 55, circa, c'è scritto una cosa, del tipo, avrebbe voluto chiedere loro, di mostrare un po' più rispetto, per la sua intimità, che è una maniera, molto elegante, per dire, che ci sono sette potter, di cui sei, si stanno spogliando, si stanno mettendo altri vestiti, quindi ognuno, adesso sa, com'è fatto, il suo pisello, a questo punto, io preferirei consegnarmi, a Voldemort, piuttosto, però va bene, è grifondoro, è coraggioso, ma, questo capitolo, non è solo piselli e risate, perché, c'è una delle prime grandi morti, di questo libro, questo libro, è una mattanza incredibile, di personaggi, la Rowling, in questo pure, è stata molto brava, cioè, che per tutto questo tempo, ti ha fatto affezionare, a questi personaggi, anche a Tonks, che Tonks, è arrivata dal, se non sbaglio, dal quinto libro in poi, quindi, in realtà, un po' meno della metà, di tutta la saga, però un po' di cero affezionato, bla bla bla, e, e, e muoiono, comunque, prima grande morte, muore, Edvige, che qui, al contrario del film, dove hanno voluto darle, una dignità, facendola tipo, andare contro, un mangiamorte, qui, povera, povera piccola, è nella gabbia, quindi, non è che può fare molto, per schivare, cose varie, muore, è nella gabbia, viene colpita, dalla Vada Kedavra, e, muore tantissimo, poi addirittura, Harry è costretto a farla esplodere, tragedia, tragedia, ed è un bel simbolismo, del, di quel poco, dell'innocenza, dell'infanzia, di, di Harry, che, che va via, perché Edvige, è una delle prime cose, a cui pensiamo, quando uno dice Harry Potter, no? Perché noi pensiamo, Harry Potter, il primo libro, primo film, la pietra filosofale, qual è una delle prime cose, lì c'Edvige, da, sin da subito, e muore, bellissimo, capolavoro, meraviglia. Nel sesto capitolo, di questo libro, c'è un errore, dovuto alla traduzione, italiana, io adesso non so, se nelle, nelle edizioni nuove, hanno risolto questa cosa, immagino di sì, perché se c'è tassofrazzo, queste altre porcate qui, tra cui, immagino che, invece di demone, nella soffitta, ci sarà scritto Ghoul, infatti qua c'è scritto, demone, a caso, i Weasley, sono diventati satanisti, all'improvviso, no, non hanno un demone in soffitta, hanno un Ghoul, in soffitta, che è comunque una cosa terrificante, vabbè, qui, è tipo una, sempre la classica creatura, che fa schifo, ma non fa male a nessuno, ma, in generale, i Ghoul, sono creature, terrificanti, che vivono, nei cimiteri, che mangiano cadaveri, cioè, fa schifo, non so perché hanno un Ghoul, in soffitta, non mi pare, venga mai spiegata questa cosa, ce l'hanno, ce l'hanno, perché sì, però appunto, non è un demone, non è un demone della soffitta, è assurda questa cosa, pagina, sì, pagina 7, capitolo 7, Henry fa 17 anni, diventa maggiorenne, perché nel mondo dei maghi funziona così, 17 anni, maggiorenne, 7 numero magico, qual è la tradizione, per chi ha 17 anni, che qualcuno gli regali, un orologio d'oro, minchia, c'è, un orologio d'oro, per ogni, mago, o strega, che però non ho mai capito, perché non si può dire stregoni e maghe, secondo la Rowling, perché non ci sono le maghe, ma le donne sono streghe, vabbè, non importa, sono cose mie, minchia, e quindi, tu mi stai dicendo che, i Weasley, che piangono miseria tutto il tempo, hanno fatto, sette figli, sapendo che per ognuno di loro, a 17 anni, dovevano regalargli un orologio d'oro, i Weasley sono poveri, ricordatevi che sono poveri i Weasley, sono poverissimi, hanno vinto alla lotteria, ma non ne avevano bisogno, non lo so, vabbè, e ritorna, ultima volta in cui parlo, della povertà dei Weasley, che poi con Fredda e George, è peggio di peggio, perché sono gemelli, quindi due orologi d'oro, in una volta sola, c'è da dire che Queen Molly, gli ha dato l'orologio, che apparteneva al fratello, quindi è stato riciclato, però non, cazzo, erano riciclato, hanno preso, ehi tu zio di 107 anni, dammi l'orologio d'oro dell'epoca, comunque, non è bella, non è bella questa cosa, capitolo 8, matrimonio di Bill e Flair, tutto bello, tutto gioioso, però, qui, il matrimonio, che ci hanno messo una vita, a organizzarlo, ci hanno messo giorni, nemmeno se stessero organizzando, la incoronazione di Carlo Magno, però vabbè, la cerimonia in quattro righe, vuoi tu, voglio, siete sposati, bravi, bacio, bacio, ok, non era un obbligo, ma io mi chiedo, questi tizi che usano la magia, e non mi sembrano cattolici, protestanti, come si sposano i maghi? Hanno dei riti celtici, dei riti di, dei druidi, o è un rito civile, nessuno ce l'ha detto, a me, si stanno sposando a casa loro, però, boh, ne avrei voluto sapere di più, io ancora non ho capito la religione dei maghi, qual è, se sono atei, se credono nella magia, come i Jedi credono nella forza, come entità, con i midi-clorian, vabbè, quindi, peccato. Capitolo 9, morte e distruzione al matrimonio di Flair e Bill, che hanno osato sperare in un attimo di felicità, e poi subito Scrimgeur è morto, il ministero è caduto, vabbè, è vero, nel frattempo, Scrimgeur era venuto a dare il boccino, il deluminatore, e il libro delle fiabe di Bedelbardo, queste cose le sappiamo, vabbè, sono cose che sappiamo, non c'è bisogno di, però mi fa ridere che, per scappare dalla Tana, Henry, Ron e Hermione si smaterializzano in una caffetteria, cioè, in una caffetteria, comunque, in una strada di Londra, vanno in questa caffetteria, in questo bar, che viene attaccato, poi vengono attaccati dai Mangiamorte, perché continuano a dire Voldemort, Voldemort, è una cosa che si spiegherà dopo, ed è anche intelligente come cosa, giustamente, che se tu dici Voldemort, adesso è diventato veramente tabù dire Voldemort, quindi sanno subito dove ti trovi, vengono attaccati, sconfiggono i due Mangiamorte, Ron, chi è, dice, ma forse dovremmo ucciderli, ma siccome questo è un romanzo per ragazzi, no Ron, ma cosa dici, uccidere, cosa brutta, mamma mamma, e c'è Harry che dice, vabbè dai, facciamogli un incantesimo di memoria, e Hermione dice, ma io non ho mai fatto incantesimi di memoria, non fosse per il fatto, che qualche capitolo prima, lei ha detto, i miei genitori dovrebbero essere assicuro, perché gli ho fatto dimenticare la mia esistenza, gli ho detto che volevano andare in Australia, quindi nel peggiore dei casi, se io non dovessi farcela, non sapranno mai di avere una figlia, io questa cosa, non l'ho capita, è un errore, oppure perché, no, perché comunque, qui gli fanno oblivion, cose varie, comunque gli mettono delle, io non ho capito, se è un errore di traduzione, perché, non vorrei che per il incantesimo di memoria, tradotto così, a caso, si introdesse cancellare la memoria, che poi cancellare la memoria, in ogni caso, non dovrebbe essere più facile, di impiantare dei ricordi falsi, come ha fatto Hermione, con i suoi genitori, non capisco questa fase, questa parte in cui Hermione, dice di non aver mai fatto queste robe, poi nel capitolo 10, tornano alla vecchia casa di Sirius, che adesso è diventata la casa di Henry, perché, ha ricevuto in eredità, ha ricevuto in eredità anche Kreacher, ed è meraviglioso, come per tutti questi libri, dal quinto, vabbè, tu trovi antipatico Kreacher, che Hermione cerca di trattarlo bene, e lui, ah, sporca mezzo sangue, anzi, qui dice mezzo sangue, è proprio mad blood, ah, sangue sporco, che insulto per i miei antenati, se la mia padrona fosse qui, col quadro che urra, un bordello, ed è bellissimo, che per tutto questo tempo, tu lo trovi antipatico, ma, come ha sempre detto Hermione, se gli elfi li tratti bene, allora, sono creature bellissime, meravigliose, che meritano rispetto, infatti, quando Henry consegna il medaglione finto, appartenuto al fratello di Sirius, a Kreacher, Kreacher diventa, l'elfo domestico più buono, più bello, più servizievole del mondo, la casa è pulita, lui stesso è pulito, prepara da mangiare, saluta addirittura Hermione, bellissimo, bellissimo, e qui ti fa capire, appunto, che Sirius, sbagliava tantissimo, nel trattarlo male, ma, allo stesso tempo, tu capisci, cioè, Hermione stessa capisce, perché Sirius lo trattava male, perché, Kreacher gli ricordava la sua famiglia, che lui aveva sempre disprezzato, certo però, che fare uno sforzo mentale, no, è normale, è normale poi, che, eh, cioè, Sirius non sarebbe morto, se, avesse trattato bene Kreacher, perché Kreacher ha mentito, nel quinto libro, a Harry, per fare un dispetto a Sirius, quindi Harry è caduto nella trappola, quindi Sirius è dovuto andare a salvarlo dal ministero, si è fatto ammazzare, bla 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 bla, ma perché, perché, quando poi, Bellatrix è andata da Kreacher, e l'ha trattato bene, non gli ha detto sporco, lui ha sentito, trattato bene, e gli ha detto le cose, ok, quindi, tanta tanta roba, poi bellissima anche la storia del fratello di Sirius, che, che ha cercato di distruggere gli Horcrux, non ci è riuscito, e addirittura, ha bevuto lui la pozione, che proteggeva il medaglione, anziché farla bene una seconda volta, a Kreacher, poi, coerente, ci sta che Voldemort, è fondamentalmente un cretino, perché, non, lui sottovaluta tutto quello che non considera importante, l'amore, il fatto che, che gli elfi domestici, hanno un tipo di magia diversa, e che quindi, hanno il potere di, di smaterializzarsi, in quella grotta, o a Hogwarts stesso, cioè Voldemort ha sottovalutato così tante cose, che poi, è normale, che si rendi riuscito a fregarlo, che poi, è giusto, è coerente, infatti, io Voldemort, non lo considero un cattivo, così incredibile, Voldemort è cattivo, perché sì, però è coerente, e ci sta, perché, c'era la cosa di Merope, no, che ha concepito, che ha concepito Voldemort, quando, il marito, era sotto l'effetto della pozione, quindi non era vero amore, quindi il figlio, non è in grado di provare l'amore, neanche di capirlo, è coerente, e poi, se Voldemort fosse stato così intelligente, Silente, non l'avrebbe fregato mai, nella vita, Voldemort, avrebbe vinto tutto, e io continuo, questa è una piccola parentesi, non capisco, se Voldemort, miri alla conquista del mondo, o solo dell'Inghilterra, perché sembra solo dell'Inghilterra, ma c'è da dire, che lui ha cominciato a fare sul serio, in un anno, un anno e mezzo, quindi magari, è la classica cosa, prima l'Inghilterra, e poi il mondo, può essere questo. Capitolo 12, il trio si introduce al Ministero della Magia, facendo piani incredibili, complicati, fanno svenire le persone, alcune le fanno vomitare, c'è di nuovo la pozione Polisucco, che è passata dall'essere, una pozione difficilissima, proibita, del secondo libro, ah, beh, Polisucco, la usano un po' tutti i Sette Potter, adesso la usano qua, poi la useranno di nuovo, per far diventare il mio Nebellatex, ma sì, che cazzo mi interessa, però molto bello, che, adesso che c'è il male, al Ministero della Magia, al posto della statua, delle creature inferiori, che guardano con adorazione il mago e la strega, che anche lì non era bello, adesso ci sono il mago e la strega, su dei troni, che poi tu li guardi bene e dici, ah, non sono dei troni, sono un groviglio di corpi di babbani sofferenti, farti capire la situazione, infatti sto dicendo la scoperta dell'acqua calda, ma è molto evidente, come tutta la questione di Voldemort, con la questione del sangue, sangue puro, mezzo sangue, scoprire, fare un censimento dei babbani, per scoprire chi è chi, è chiaramente un parallelismo con i nazisti, con gli ebrei, vabbè, questo lo sappiamo, veramente, veramente, molto, molto bello, poi, capitolo successivo, capitolo tredici, grande ritorno della Umbridge, la Humbridge, come la volete chiamare, che si è salvata dai centauri, nessuno sa come ha fatto, battute sui centauri, che sono cavalli, vabbè, lasciamo perdere, e adesso lei si occupa del censimento dei nati babbani, è molto bello, qui si riconferma un personaggio veramente bastardo, ma scritto bene, qui purtroppo non splende, come nell'Ordine della Fenice, è più che altro un cameo, il suo, che lei, cioè, praticamente loro usano i dissenatori per le emergenze, ma lei li tiene lontani con il suo Patronus, che è un gatto, ovviamente, ma lei, cioè, in quella situazione terrificante, ha un Patronus bellissimo, che Harry percepisce che vicino al Patronus c'è un calore, confortante, ma perché lei è felice, lei è felice delle sofferenze degli altri, è felice di dire, ah, lei è babbana, lei ha rubato la bacchetta, queste cose, tanta, tanta roba, tanta roba, però mi fa molto, scusate, mi fa molto ridere, che ci sono piani su piani, poi ci sono, quello che dice a Ron, di andare nel suo ufficio, perché piove, è Ermione che costetta fare la segretaria in questo processo alla tizia, perché è nata babbana, quindi tutti i grandi piani fatti dai tre ragazzi per entrare al ministero vanno abbastanza storti, e io quella prima volta che l'ho letto arrivato a questo punto pensavo ok c'è Harry sotto il mantello, è vicino alla Humbridge, sono lì con i dissennatori, la Humbridge ha al collo il medaglione di Salazar Serpeverde, che gli ha venduto Mundungus perché l'ha beccato, e lei mente perché lei è un ignorante, lei non sa che quello è il medaglione di Serpeverde, dice, sono imparentata con, dice un'altra famiglia che vabbè, sempre con la S, e qui io pensavo adesso come faranno a prenderlo, con quale piano riusciranno a ingannarla eh? Harry si toglie dal mantello dell'invisibilità e fa STUPEFICIUM! e sviene, e prendono il medaglione, ok, tutti questi piani e poi il piano più grande era riempiamoli di mazzate e scappiamo, genio, genio machiavellico, fortuna che è Cermione che almeno dublica il medaglione di Serpeverde, così almeno l'Humbridge non ha troppi sospetti, non si mette a cercare chi ha rubato il medaglione, ah vero, poi prima mi sono dimenticato di dirlo, è carinissimo il fatto che c'è il, che c'è, io non l'ho scritto però perché sono deficiente, mi sa che non l'ho scritto, quindi adesso non mi ricordo più se sono una roba del film, o se è una roba, no non è una roba del film, ok, molto carino, prima di questa cosa dello STUPEFICIUM, che Arthur Weasley, padre di Ron, parla in maniera molto forte contro Harry, che sta all'aspetto di uno che non è un mangiamorte, ma è un simpatizzante, tutti si cagano sotto quando vedono Harry, perché a quanto pare questo tizio, fa molta paura, ha molto potere, invece Arthur tranquillo, ah come ti permetti, tu hai fatto questo, quest'altro, ed Harry gli dice, signor Weasley, guardi che la stanno sorvegliando, e lui giustamente, cosa è una minaccia, no è la verità, bellissima, un quarto Weasley, veramente mago, mago incredibile, che uno pensa che i Weasley sono un po' scemotti, perché sono poveri, e sono buoni, ma in realtà quando c'è bisogno di lottare lottano, una bella famiglia, mi piace, ah capitolo 15, comincia, comincia la grande scampagnata, perché, non possono più tornare a Grimmauld Place, perché un mangiamorte, mentre si smaterializzavano, è entrato a casa, quindi è come se loro, guardiani segreti, non mi ricordo adesso qual è il termine, vabbè, e gli hanno mostrato in nascondiglio, quindi Grimmauld Place non è più un luogo sicuro, e sono costretti a farsi le gite nei boschi, e subito Ron si lamenta per la fame, e quindi qui ritorna, non era l'ultima volta che dicevo sta cosa, ho mentito, me lo sono dimenticato, Ron, ricordiamolo, è povero, ma, posso capire a Hogwarts, ma anche a casa, lui è abituato a avere tre pasti al giorno, e anche molto abbondanti, la povertà signori, la povertà, la povertà, di questa famiglia che non riesce a sbancare il lunario, capitolo 17, allora, scusate, mi sono sempre un pazzo, però ci sono dei ragionamenti che faccio nel frattempo, siamo a 15 capitoli su, quanti sono, 36, 36, ok, più, se vogliamo, no, 19 anni dopo è un epilogo, non è un capitolo, 36, siamo a 15 su 36, va bene, quindi siamo, a un po' più di un terzo, siamo quasi a metà, finora, non è successo quasi niente, la cosa del, del ministero, è la cosa più emozionante che è successo, perché abbiamo perso un sacco di tempo con i sette potter, il matrimonio, i matrimonio, i preparativi del matrimonio, sono durati un sacco, solamente perché c'è poi, sì, poi al matrimonio si parla dei doni della morte, cioè la Rowling è brava a fare i gialli, anche la camera dei segreti, in realtà un po' tutti, in realtà tutti i libri di Harry Potter sono dei gialli, c'è sempre il mistero, chi è stato, chi non è stato, e poi verso la fine, ah, sono stato io in realtà, ah, lo sapevo perché c'era quell'indizio di, quindi in generale, anche questo è un giallo, solo che, sarà il fatto che non c'è più Hogwarts, e quindi il tempo è molto più, non lo so, dilatato, non lo so, succedono meno cose, perché un conto è se sei in una scuola per maghi, dove puoi far accadere mille cose, un conto è se sei in mezzo alle campagne, hai solo tre personaggi che chiacchierano fra di loro, non è che può succedere granché, però qui la, la, la narrazione è lenta, è lentissima, mamma mia, e quando ricevono degli indizi, è a volte per botta di culo, scusate il linguaggio volgare, è per fortuna, perché tipo ci sono quelli che chiacchierano, c'è il padre di Tonks che chiacchiera con i folletti, quindi vanno a sapere che è la spada di Grifondoro, in realtà non è più nell'ufficio del preside, che nel frattempo Piton è diventato preside, cose così, Ermione che dopo mesi, che legge le fiamme di Berda, il bardo dice, ehi, ma questo è il simbolo dei doni della morte, Harry, ah ma è per caso quello che il signor Lovegood indossava, e Vittor Crum ha detto che è di Grindelwald, ah, quindi simbolo di Grindelwald, dopo mesi però è il mione, si rende conto di questa cosa, non è che tipo se ne poteva accorgere all'istante, così avevamo tipo quelle cento pagine in meno, no, va bene, quindi questo libro secondo me non è stato facile da scrivere, io adesso qua, è facile per me parlare, io non oso pensare alla pressione a cui è stata sottoposta la Rowling, per il finale della saga che già era al cinema, ok, poteva andarci peggio, poteva finire come Game of Thrones, piuttosto, posto il fatto che i film di Harry Potter fanno veramente schifo dal quarto in poi, quindi anche se si fossero inventate le cose di una pianta come in Game of Thrones, il risultato sarebbe stato più o meno lo stesso, però almeno sappiamo che quella roba è presa da, ispirata dal materiale originale, quindi l'hai dovuto fare, il finale di una saga attesissima, io ricordo i video, io ancora ero troppo piccolo per l'internet, per l'epoca, ormai anche all'asilo si va su internet, io su internet ho cominciato ad andarci pochino a 16 anni che era il 2009, questo libro è del 2008, forse in America è uscito qualche mese prima nel 2007, non mi ricordo, e io mi ricordo un video, uno dei primissimi video del Nostalgia Critic, che era in fila, stava facendo un, c'erano proprio delle file enormi nelle librerie, ad aspettare la mezzanotte, per comprare il libro, file chilometriche, gente che si accampava come quando ci sono gli sconti e i grandi magazzini, ok, non è stato facile scrivere questo libro, ne sono certo, questo non vuol dire però che non posso criticarlo, va bene, perché so che magari c'è qualcuno che si offende, dice eh però non era facile, lo so, questo momento di serità mi è venuto perché era giusto, perché era giusto, ripeto, non mi è mai piaciuto più di tanto questo libro, però va bene, a proposito di indizi che arrivano a caso, c'è sta cosa qui, ehi, è Grindelwald, ah è Grindelwald, ma pensa, che cosa facciamo adesso, ma la sua, vabbè, in realtà ancora non lo sapevano, però tipo a un certo punto, ehi, ti scoprono questa cosa di Grindelwald? Ma forse la scoprono dopo, sai che c'è un po' di confusione, vabbè comunque a un certo punto vogliono andare a Godric Solo, ah sì, sì, per la spada, ok, sì, per la spada, e quindi la spada non è più dal preside, forse allora Silente l'ha messa a Godric Solo, dove vivevi tu Henry, quando eri piccolo, dove volevi andare da mesi, ma noi ti abbiamo sempre detto, no Henry è pericoloso, tu ci vuoi andare solo per rivedere la tomba dei tuoi genitori, che in effetti era vero, ed Henry, ah ma quindi Godric e Grifondoro, è nato a Godric Solo, ma va, o comunque c'è cresciuto, avevi comunque il posto, per il nome da lui, deficienti, vanno lì, c'è Bathilda Bath, che li trova al cimitero bellissimo, tra l'altro prima ancora, che ci sono le tombe di Lily e James, morti a 21 anni, questi figli hanno subito 21 anni, roba da matti, vabbè, ma tanto James era ricco, quindi fai famiglia a 21 anni, che cosa ci interessa, la casa dei Potter, che è diventata un monumento, no, che i babbani non possono vedere, c'è la targa qui e dove hanno perso la vita, chi ha lottato, e i vari maghi, forza Henry, siamo con te le dediche, molto molto carino, vabbè, poi incontrano Bathilda Bath, fighissimo, fighissimo, perché nei film, purtroppo, questa cosa si percepisce subito, nel libro, tu non capisci, che Bathilda, in realtà è Nagini, è Nagini che sta indossando la pelle, di Bathilda, e quindi lei comunica con Henry, col serpentese, quindi, una volta che Bathilda dice una frasina, Hermione salta in aria, perché sente magari un sibilo, ed Henry, invece, la capisce, non capisce subito, che c'è un pericolo, fino alla fine, molto creepy, tra l'altro, questa cosa del serpente, che si affloscia la pelle, ed esce dal collo, molto molto figo, mi ricorda, l'alieno scarafaggio, del primo Man in Black, che da piccolo mi faceva schifissimo, però me lo guardavo sempre, quando eravamo piccoli noi, noi dal 93 anni 90, ma anche quelli degli anni 80, molti film per ragazzi, erano molto più terrificanti, disgustosi, di quello che propongono adesso, ai ragazzi moderni, e non so se è un bene o un male, però so di fatto, che la prima volta, mi ha ricordato subito, questa cosa dell'alieno, che entra dentro il corpo, di questo poveraccio, e quindi è tutto, tutto deformato, tutto, guardate il primo Man in Black, tanta tanta roba, è bellissimo, combattono, combattono, contro il serpente, ed è molto, molto carino, che quando stanno per scappare, Henry, entra nella mente di Voldemort, e vede se stesso, attraverso gli occhi di Voldemort, che sta scappando, vede se stesso vecchietto, perché con la polisucco è un vecchietto, che stanno scappando, molto bello, e sempre grazie, alla connessione con Voldemort, possiamo vedere più nel dettaglio, dal punto di vista di Voldemort, addirittura, come è andata la morte dei genitori di Henry, secondo me non c'era un gran bisogno, che accadesse, cioè non c'era bisogno, però, vabbè, è l'ultimo libro, dai, abbandoniamo, abbandola, l'avidità, scrivi, Rowling, scrivi, scrivi cose che non sono però lentissime, ah, non l'ho detto, ma penso che lo sappiate tutti, qui Ron, se ne è andato, a causa dell'Orcrux, anche, però vabbè, vabbè, tanto poi, la realtà, sta cosa di Ron, che se ne va, dura pochissimo, lui stesso dirà poi, che, qualche minuto dopo, e se se ne è andato, voleva tornare, però, vabbè, capitolo 18, c'è il capitolo successivo, grande ritorno ed evoluzione di Ron, che salva Harry dall'Orcrux, che voleva soffocarlo sotto il ghiaccio, scena terrificante, implicato per il freddo, che sicuramente Harry doveva sentire, e quindi c'è Ron, che lo salva, prende la spada di Godric Grifondoro, ed è lui, che distrugge il medaglione Orcrux, molto bello, che l'Orcrux cerca di difendersi, instillando il dubbio, nel cuore di Ron, e mi ha fatto molto ridere, questo passaggio che ho letto, dove si diceva, che davanti a lui, appaiono, delle forme, di Harry, e di Hermione, magari con la voce da Voldemort, però che gli dicono cose che lui teme, no? Tipo Hermione che gli dice, ah, ma chi sceglierebbe mai te, rispetto a Harry Potter, tu sarai eterno secondo, mi ha fatto molto ridere, che nel libro c'è scritto, quella che parlava, era una versione, era Hermione, bella, come non lo era mai stata, ma allo stesso tempo, era comunque terrificante, e niente, mi ha fatto ridere, perché ho pensato al film, dove Emma Watson, era già bellissima, quindi non è che potevano, non è che potevano fare miracoli, cioè anzi, nel film, fanno anche schifo, Harry e Hermione, versione, Horcrux, tutti bianchi, tutti photoshopati, proprio senza una ruga, facevano abbastanza schifo, però bello che poi Ron, colpisce, salva la situazione, ed è molto bello anche il fatto che, poi c'è tutta la cosa del deluminatore, c'è la spiegazione, ti fa capire che Silente, aveva già intuito, che Ron se ne sarebbe voluto andare, per poi tornare, questo deluminatore, fa delle cose, che non si erano mai viste prima, però vabbè, non sapevamo niente di questo oggetto, ci può stare, cioè che non si limita solo a, prendere la luce, da qualcosa, e poi rimetterla, ma anche, tipo che se tu tieni a una persona, lo fai scattare, senti la sua voce, c'è questa sfera, ti entra nel cuore, una roba super stucchevole, vabbè, ma la Rolling, queste cose stucchevoli, le fa sempre, quindi tu ce l'hai dentro, e capisci dove devi andare, no? E vabbè, molto carino, qui hanno voluto, perché proprio ha voluto spingere, su questa cosa di Ron e Dermione, come se non fosse abbastanza ovvio, che ti sarebbero messi insieme, alla fine, in questo, ma già dal ballo del ceppo, però vabbè. Poi una cosa che mi sono segnato, è una domanda che mi sono sempre fatto, e io non ho mai capito, perché non si sono mai messi il medaglione in una borsetta, perché metterselo al collo a turno? Dovevano citare Frodo col Signore degli Anelli, che lo indossava, e si corrod... diventava sempre più corrotto, non ho capito. Capitolo 21, qui c'è la roba che avevo detto prima, ah, Harry, guarda, questo è il simbolo dei doni della morte, ma anche il simbolo di Grindelwald, quello che indossava, signor Lovegood, allora andiamo a casa di luna, Lovegood è da suo padre, vanno lì, c'è tutta la storia dei doni della morte, i tre fratelli, parabà, parabà, e mi piace un sacco che qui Ermione deve fare la scettica. Ah, ma i doni della morte non esistono, la bacchetta non esiste, è una fiabba per bambini. C'è, io capisco tutto, ma cazzo, voi siete da mesi alla ricerca di oggetti che contengono l'anima di un tizio e invece la possibilità, non è che tipo di ci può essere, no, già a prescindere non esistono, cioè, a me sembra stupido che tu vivi in un contesto magico e non puoi accettare l'esistenza del mantello dell'invisibilità, della pietà dell'essorazione e della bacchetta. Perché? Perché non puoi accettarlo, ho capito il dubbio, ma mettilo, fai l'agnostico, metti forse, no, subito Hermione, no, non esistono, infatti poi se la piglia in quel posto perché i doni della morte esistono. A me sembra veramente stupida sta cosa che in un contesto magico tu sei scettico a prescindere. In un mondo fantasy dovrebbero essere tutti di mentalità aperta e non dico credere a qualunque cosa, ma dire forse, forse, ok, boh, vabbè. Bellissimo anche che nel capitolo sempre dei doni della morte i tre ragazzi quando stanno per dire ma è ovvio quale dono sarebbe più utile. Ognuno dice uno dei tre doni diversi. C'è Ron che dice la bacchetta perché lui è sempre l'eterno secondo, uno dei tanti fratelli maschi, Weasley, quindi il pensiero di essere potente, no? Hermione, il mantello perché le piace nascondersi, non lo so, è Harry giustamente la pietra della resurrezione perché lui ha avuto un sacco di lutti quindi gli piacerebbe vedere gente che è morta per risalutarle almeno un'altra volta e questo fa capire la personalità di ognuno dei tre ragazzi. Capitolo 23 siamo a Villa Malfoy sono stati tutti rapiti perché poi perché Harry dice sovrappensiero il nome Voldemort quindi li trovano e qui c'è Draco che è molto bello che Draco non conferma l'identità né di Ron né di Hermione né di Harry anche se Ron poi lo riconoscono però e qui c'è Codaliscia è esattamente come mi era stato detto all'epoca e non me lo ricordavo qui Codaliscia c'è grazie a questo capitolo c'è la dimostrazione che Sirente aveva ragione e che quindi magari la Rowling sin dal terzo libro aveva pensato a come far morire Codaliscia perché Sirente aveva detto tu gli hai salvato la vita nonostante tutto e questa è una roba che non ci si dimentica e infatti Codaliscia quando sta strozzando Harry con l'armano argentata che gli ha fatto Voldemort nel quarto libro c'è Harry che dice ah io ti ho salvato la vita è così che mi ripaghi Codaliscia per una volta fa la cosa giusta e lo lascia andare poi viene punito viene ucciso dalla mano di Voldemort che gli ha creato e che lo strozza e finisce così però interessante molto interessante mi ero completamente all'epoca mi ero completamente dimenticato di questa cosa perché invece nel film hanno avuto la bell'idea di fargli fare la fine da spalla comica che ti può entrare nella cella lo colpiscono da dietro sviene e non lo vediamo mai più bene bene così forse hanno pensato a Emano un film per ragazzi vedere uno che si strozza da solo e muore è brutto certo perché invece tutto il resto era bellissimo capitolo 28 sì ci sono ben 5 capitoli che no 4 capitoli su cui non ho avuto nulla da segnare perché stanno lì cercano roba ah sì muore Dobby nello stesso capitolo dove Codalisha muore muore Dobby posso dirlo Dobby non me ne è mai portato nulla di Dobby però vabbè quindi c'è tutta la roba di Villa Conchiglia si mettono d'accordo con con Unci Unci per recuperare la coppa di Tassorosso dal cavò della Gringot di Bellatix Lestrange o Lestrange come lo volete dire voi quindi tutta quella parte la Villa Conchiglia da Bill Lefler l'ho saltata perché chi se ne frega capitolo 28 arrivano nel tentativo di tornare a Hogwarts perché nel frattempo poi distruggono la coppa ok nel tentativo di tornare ce l'ho la recuperano ancora non la distruggono perché Unci Unci bastardo si è fregato la spada però in dato ce l'hanno a bordo di un drago saltano volano vabbè tornano a Hogwarts perché sanno che lì c'è uno degli ultimi Horcrux perché Voldemort capisce finalmente che Harry sa degli Horcrux quindi Harry è collegato a lui quindi Voldemort ripensa a tutti i nascondigli dei suoi Horcrux quindi Harry ha la la dritta e sa che deve andare a Hogwarts per qualcosa che riguarda Corvo Nero probabilmente il diadema della fondatrice di Corvo Nero nel tentativo di andare ad Hogwarts giustamente i Mangiamorte non sono totalmente dei deficienti mettono un allarme quindi loro poi scappano a Hogsmeade Aberforth Silente gli copre il culo gli copre le spalle e vabbè ci sono cose e poi qui c'è finalmente la spiegazione di cosa è successo veramente con la famiglia di Silente perché per tutto il libro ti dicono ah il padre di Silente ha aggredito dei babbani ed è andato ad Azkaban la madre ha segregato sua figlia in casa perché si vergognava che Ariana non era potente ed era una maga no c'è la scusa che era fragile ma non era vero poi la madre è morta e quindi Silente si è dovuto occupare tutti poi in realtà Aberforth ti dice Ariana bellissimo nome tra l'altro Ariana tutti con la ai Silente abbiamo notato Albus Sabe Fortariana com'è che si chiama quello dei crimini di Grindelwald ovvero non me ne frega tanto non lo accetto per me quei film non esistono quei film il primo mi era piaciuto dai crimini di Grindelwald ho detto ok questa saga non esiste poi anche la spiegazione del perché Silente non può attaccare Grindelwald e cozza tantissimo con questi libri togliete l'affidamento di Harry Potter alla Rowling che chiaramente non ci sta più con la testa parlando dal punto di vista della scrittura perché per tutto il resto vabbè non voglio lo sapete cosa ne penso della Rowling come persona comunque si scopre la verità e c'è mio pa Arianna in realtà non riusciva a controllare la sua magia quindi ogni tanto esplodeva e cose varie dei ragazzi l'hanno vista fare le magie mentre era in giardino l'hanno minacciata per farsi spiegare come aveva fatto mio padre gli ha aggrediti mio padre è andato ad Azkaban però non ha detto perché ha aggredito quelli là perché non voleva che tutti andassero contro la figlia la madre Kendra si è occupata di lei però è morta a causa di un incidente bla 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 poi alla fine Arianna muore perché Grindel è forte e silente lottano fra di loro nessuno non si è mai saputo chi ha colpito lei quindi c'è questo doloroso mistero comunque diciamo che anche se non scaggiona totalmente silente perché silente in quei due mesi con Grindelwald aveva fantasticato sul controllare i babbani per il bene superiore almeno sappiamo che la famiglia di silente non era totalmente uno schifo e questo diciamo è un sollievo per il lettore per Harry per tutti quanti capitolo Trent tornano a Hogwarts attraverso il tunnel che c'è dietro il quadro di Arianna che lo collega che collega direttamente non mi ricordo come si chiamava il pub di Aberforth con la stanza delle necessità di Hogwarts la stanza delle necessità anche questo Deus Ex Machina utilizzato all'inverosimile come la polisucco però va bene quindi c'è questo preludio alla mega battaglia di Hogwarts che si sta per abbattere tanta roba tanta roba e poi arriva Percy Weasley dopo un sacco di film fuori film libri non mi ricordo se era dal quinto o già al quarto no penso penso al quinto perché al quarto Percy rompeva i coglioni che lavorava al ministero però ancora non era totalmente contro la sua famiglia però vabbè e c'è Percy che si ravvede che chiede scusa e tutti sono contenti e io mi odio tantissimo perché questa cazzatina per un attimo mi ha commosso non me ne frega niente di Percy ma leggere lui che dice sono stato un idiota e tutti che gli vogliono di nuovo bene mi ha sinceramente commosso poco però non ho pianto ho avuto un attimo di e poi basta 31 capitolo quindi successivo a questo di nuovo si sta per preparare la grande battaglia ad Hogwarts c'è la McGranit o la McGonagall se vi da fastidio come la si chiamava all'epoca con la traduzione italiana vecchia dice dobbiamo portare via tutti gli studenti però i maggiorenni se vogliono combattere restano e dei serpeverde non resta nessuno nessuno tutti tutti dicono prendete Henry prendetelo perché il signor oscuro lo vuole così ci salviamo il culo io io trovo ridicolo ora a me piace a me io vorrei essere serpeverde ma non perché sono malvagio cioè sì anche per quello ma soprattutto perché i serpeverde i serpeverde i serpeverde dovrebbe essere la casa dell'ambizione ora mi spiegate cosa c'è di cattivo nell'ambizione in sé mi dà fastidio nessuno proprio lo stereotipo ma allora scusami scusami perché esiste questa casa non se ne sono accorti in più di mille anni di storia di Hogwarts che tutti cioè tassorosso corvo nero grifondoro ok serpeverde quelli che rompono sempre i coglioni ma toglila questa casa tutti i bulletti stanno lì e cos'è la casa dei bulletti a sto punto li porti tutti a doomstrang e non rompi le palle non ho capito ma mettimi qualche serpeverde che dice oh però che palle come draco c'è draco in realtà continua ad attaccare Harry Potter perché ha paura per la sua famiglia però c'è draco serpeverde ma comunque aveva dei ripensamenti ed è totalmente stupido il fatto che poi nei 19 anni dopo c'è il secondo figlio di Harry e Ginny che ha quel nome bellissimo di Albus Severus che dice e se io fossi serpeverde se andassi a serpeverde ed Harry ah ma tu porti il nome di due presidi di Hogwarts e uno di loro era serpeverde è l'uomo più coraggioso che abbia mai conosciuto allora devi decidere Rolling i serpeverde possono essere buoni oppure no mi dà fastidio è proprio lo stereotipo cioè fa ridere è come quando in Guerre Stellari nei prodotti di ora di Star Wars adesso proprio c'è la battuta gli Stuntrooper non sanno mirare che fino a quando è una cosa che dice il pubblico fa ridere perché è una cosa del pubblico perché tu lo sai che ovviamente molti personaggi hanno la plot armor quindi sembra che gli Stuntrooper non sappiano mirare ma se gli fai diventare dei rincoglioniti poi nel canone allora è diverso e qui è la stessa cosa di serpeverde tutti i cattivi poi sempre questo che ha guido 31 in realtà succede un bordello di cose e ci sono tutti i serpeverde cattivi Ron che ha l'idea del basilisco per distruggere la coppa di Tassorosso e quindi va insieme a Hermione cosa che carino che hanno fatto vedere nel film perché nel libro non si vede giustamente c'è Ron che apre la camera dei segreti parlando serpentese cioè nemmeno lo commento perché nel secondo libro pure si capiva che il serpentese non era cioè era una lingua che si poteva imparare a quanto pare si poteva imitare però boh a me continua a sembrare stupido cioè il serpentese dovrebbe essere non tanto la lingua un dono interiore no? cioè secondo me la camera dei segreti non si doveva aprire mai neanche se dicevi le parole giuste se non avevi il dono del serpentese però vabbè lasciamo vedere non poteva dire che tipo la camera in quegli anni era rimasta un po' socchiusa a causa si era si era arrugginito non lo so qualunque qualunque cosa oppure che un che un professore coraggioso cioè veramente non ha lasciato marcire il basilisco là dopo che Harry ha salvato tutto e tutti cazzo ma dimmi che ne so hanno preso le zane del basilisco per fare le pozioni e le ho recuperate alcune ma boh vabbè e poi sempre in questo capitolo ah si poi sempre in questo capitolo Ron ed Ermione si baciano perché Ron ha detto dobbiamo liberare tutti gli elfi domestici perché non è giusto avere altri dobbi sulla coscienza lì Ermione che fa parte del Crepa che ha fondato il Crepa non ci ha visto più e si sono baciati vabbè vabbè poi sempre in questo capitolo cazzo in questo capitolo succedono più cose che in metà del libro precedente sempre di questo libro cioè in un capitolo c'è molta più ciccia di buona parte del libro va bene in questa parte trovano il diadema di come si chiama la coroncina vabbè la cosa di Corvo Nero e poi nella stanza delle necessità e ci sono Tiger Goyle e Draco che fanno bordello c'è Tiger che usa l'ardemonio che guarda caso è un'altra delle robe che può distruggere Yorkrux però Harry salva Draco Tiger schiattato sono molto contento molto contento che comunque qui si vede che Harry è comunque migliore delle generazioni precedenti perché secondo me nessun altro l'avrebbe fatto con tutto quello che ha fatto Draco fino ad ora anche a livello di cioè l'ha bullizzato amminacciato perché fa parte di Vangemolte ma Harry lo salva lo stesso questo è bello questo è molto bello ah il diadema l'avevo scritto qua il diadema di Corvo Nero è buone anche Fred capitolo 31 succedono le cose sacco di roba succede nel capitolo 31 bellissimo oh e adesso arriviamo al capitolo 33 quello con la storia del principe mezzosangue pagina 632 la pagina che ha fatto sognare migliaia di persone che ha fatto pensare alle persone ehi potrei tatuarmela questa cosa magari qui è contribuito anche il film ora vi spiego c'è Piton che fa uscire il suo patronus ed è una cerva che era il patronus di Lily ok Silente la guardò volar via e quando il suo bagliore agente osvanì si rivolse a Piton con gli occhi pieni di lacrime dopo tutto questo tempo sempre rispose Piton e la scena cambiò Piton parlava con il ritratto di Silente appeso dietro la sua schivania ora questa cosa del sempre quanto è durata un secondo e poi dopo la scena cambiò non c'è un'enfasi particolare in questo sempre non è che tipo sempre e poi c'è una descrizione quelle belle che piacciono alla Rowling le lacrime gli solcarono il volto oppure la bocca si muoveva per trattenere il dolore no dopo tutto questo tempo sempre rispose Piton e la scena cambiò Piton parlava è il film che l'ha fatta diventare una scena incredibile con l'attore che guarda l'orizzonte e dice sempre zoom ora non mi ricordo bene vedessimo la scena come è fatta e quindi secondo me nonostante tutto secondo me neanche la Rowling voleva che Piton diventasse per molti il miglior personaggio di Harry Potter non dico che sia un personaggio brutto ma secondo me Piton è o Snape Severus Snape è incredibilmente sopravvalutato ora io non sto dicendo che se vi siete tatuati l'always siete stupidi no potete fare quello che volete se per voi ha un significato particolare se quella scena è rimasta nel cuore in una maniera sempre particolare avete voglia di tatuarvi quello che caspita volete però ripeto secondo me Piton non è un personaggio così incredibile uno dei difetti di questo libro l'ho anche detto è che per la maggior parte del tempo è lentissimo e poi nelle ultime circa 200 pagine anche di meno 150 pagine ti vomita proprio la Rowling ti vomita tutte le informazioni in questo il capitolo dei primi abbiamo visto distruzione del diadema Ron e Hermione che si baciano Percy che si ah no Percy no quello era dopo comunque tutti i serververde e cattivi Fred che muore un sacco di cose in questo tutta la storia di Piton da quando è piccolo che conosce Lily e Petunia si scopre che Petunia inizialmente voleva entrare a Hogwarts poi non ci è potuta andare quindi ha fatto come la volpe l'uva che schifo io in realtà non ci volevo andare a Hogwarts sei un mosto gne gne vabbè chi se ne frega di Petunia e quindi in questo capitolo in poche pagine ha voluto rivoluzionarti in una botta sola tutto il personaggio non è che non si può fare è che ok cioè secondo me la sua storia non è abbastanza per rivalutare totalmente Piton e dire addirittura è il migliore perché perché chiaramente il il Piton descritto nei primissimi libri di Harry Potter è semplicemente il professore cattivo stereotipato per far empatizzare i ragazzini che magari hanno quell'insegnante antipatico e quindi è cattivo perché si c'è la roba io odiovo tuo padre mi ha salvato la vita però in realtà l'ha fatto per pararsi il culo perché è lui che mi ha portato in quella situazione in cui poi mi ha risalvato ma tutto questo rende Piton anche un po' coglione perché se noi sappiamo che sin dall'inizio Silente gli ha detto Doren poi tu sarai professore qui c'è il figlio di Lily poi dobbiamo proteggere il figlio di Lily il figlio di Lily può essere importante ma voi vi ricordate che nei libri precedenti anche il quarto mi pare uno dei primi comunque uno dei primissimi c'è Piton che cerca di fare spellere Harry Potter nel secondo libro quando arrivano a bordo della macchina lui è contento diceva vi faccio spellere vi faccio spellere da questa scuola e io mi immagino io me lo immagino Piton che in qualche modo riesce a fare spellere Harry Potter e tutto quanto il figlio di quel maiale di James Potter è stato espulso e c'è Albus Silente che lo guarda ma sei coglione e tutti i miei piani e ora che facciamo stai zitto non dire più sempre non dirlo Piton ha sempre trattato malissimo Harry ok col difetto perché c'era la cosa che lui vedeva suo padre ho capito ma è molto infantile come cosa soprattutto se sai che Silente per qualche motivo che ancora non ti ha detto ha un occhio di riguardo per lui cazzo è il bambino che è sopravvissuto è il figlio di Lily non puoi trattarlo così male solo per un motivo stupido è infantile come un po' infantili sono i primi libri del mi ricorda suo padre non so se mi sono riuscito a spiegare bene l'evoluzione di Piton è troppo assurda c'è la storia che c'è in questo unico capitolo del perché si comporta male con Harry comunque del perché nonostante tutto l'ha protetto comunque è da bipolare è bipolare Piton ora senza offesa per chi veramente soffre di bipolarismo questo è un iperbole ok sto esagerando però boh boh e poi ah ecco perché piace Piton a molte persone perché ne vedono il lato romantico il lato tragico di questo ragazzo che ha sempre amato una da quando erano bambini è arrivato quell'altro che non solo lo bulizzava ma poi gli prende anche la ragazza allora posto il fatto che effettivamente rimane un mistero come stavo per dire Ginny ma perché Ginny e Lily sono la stessa cosa c'è c'è Harry che ha un complesso di edipo incredibile per questo che si mette con Ginny però vabbè Lily cioè vabbè è un mistero perché poi Lily si è messa con James ma comunque Piton non è che era il ritratto della simpatia si è unito allora Serpeverde e vabbè lei era Grifondoro sti cazzi però cominciava a a circondarsi di persone cattive che Lily glielo diceva oh non ti perché sei amico con questi tizi che fanno magia oscura e lui ma no ma dai sono ragazzi siamo ragazzi poi lui si unisce e Mangiamorte si sta per unire Mangiamorte e Lily lo sta per sentire nell'aria poi la chiama perché è arrabbiato sporca mezzo sangue che poi Lily è come Ermione quindi una Mudblood in realtà perché i genitori di Lily si tutti i babbani però vabbè quindi Piton senza che nessuno gli ha detto non è che James e non è perché James l'ha abolizzato che Piton è diventato un Mangiamorte no Piton in sé aveva un'oscurità era cattivo ok personaggio grigio personaggio grigio un cazzo Piton al massimo dopo si è ravveduto e comunque per i motivi che ho detto prima era comunque psicopatico perché questi comportamenti non quadrano con quanto ci ha raccontato la Rowling in questo libro e quindi ma poi ma poi Lily gli doveva qualcosa ma cioè ma secondo voi se James non si fosse messo in mezzo mettiamo che Lily e James non si fossero mai messi insieme Piton non avrebbe mai mai avuto una possibilità con Lily perché erano a un certo punto troppo diversi troppo diversi come se Lily gli dovesse qualcosa l'amore tragico non è amore cioè l'amore è suo ma Lily boh io sono molto scettico su queste cose secondo me l'amore tragico carino ma a un certo punto stucca non lo so non riesco a vederci niente di particolarmente romantico in nel rapporto di Piton e Lily anzi è come se lui pretendesse qualcosa da lei poi non l'ha mai costretta con la forza per carità però boh lei non gli doveva niente assolutamente niente erano solo amici finché lui si comportava bene poi si è comportato di merda e si sono allontanati questo indipendentemente dal fatto che poi lei si è sposata con James e lui si è fissato con lei va bene va bene ma lì è proprio una fissazione non è amore non lo so penso di aver fatto una gran confusione con Piton spero di essere un minimo riuscito a farvi capire il mio punto di vista ok vabbè tanto carino andiamo avanti ah sempre in questo capitolo si scopre che perché Silente aveva la mano tutta nera nel sesto libro perché aveva usato la pietra della risurrezione che era anche un horcrux vabbè nel tentativo di vedere tutta la sua famiglia ariana sua madre suo padre digli che gli dispiaceva lì è stato bello perché lì di nuovo come poi lui dirà nella visione di Harry durante la quasi morte lì è stato di nuovo debole debole e quindi si è beccato una maledizione incredibile alla mano quindi bello che c'è questo lato molto umano di Silente che per tutta la vita ovviamente ha sempre provato un forte rimorso per la morte della sua povera sorella capitolo 35 vabbè Harry schiatta perché c'è tutta quella cosa del ah allora il ragazzo quando arriverà il momento deve morire lei l'ha fatto vivere solo come un animale da macello no a un certo punto deve morire ed Harry va lì e schiatta incontra Silente quella che nella sua visione è una versione molto pulita della stazione di King Cross molto bella la scena anche nel film molto bello anche il fatto che il pezzo di anima di Voldemort ha questa questa forma bruttina di questo bambino tutto rosso tutto disgustoso no è una scena che mi è sempre piaciuta tanto tantissimo e mi è sempre anche piaciuto il fatto che non si capisce se succede veramente o no cioè il capitolo si conclude con Harry che dice signore ma tutto questo sta succedendo veramente o nella mia testa e Silente dice vabbè ma è ovvio che sta succedendo nella tua testa ma perché diavolo questo non lo dovrebbe rendere vero bello ti lascia quel dubbio e tu vuoi sperare che vuoi vedere tipo l'aldilà o comunque il passaggio prima di andare avanti molto molto carina come cosa ah è vero e poi si scopre cioè non è che si scopre non è che te lo dicono in maniera precisa però se tu colleghi tutto capisci che se Voldemort se la famiglia Orvoloson in generale ha ereditato l'anello della la pietra della resurrezione da uno dei tre fratelli quindi gli Orvoloson discendono da uno dei fratelli Peverell Peverell giusto Harry discende da un altro dei fratelli Peverell Ignotus che quindi tutti hanno ereditato il mantello dell'invisibilità quindi Vold e Mortaderry sono imparentati alla lontana molto carino come dettaglio non è importante però dici ah vedi sembra quasi il destino di questi come se una cosa di famiglia no molto molto carina ah si e poi si scopre che come era ovvio il mantello dell'invisibilità del padre Harry lo riceva al primo anno a Natale lei gliel'ha dato Silente perché Silente l'aveva preso temporaneamente a James perché James gliene aveva parlato Silente voleva studiare i doni della morte ha detto cazzo dammelo un attimo che me lo studio ok e poi giustamente quando arriva del momento l'ha restituito al legittimo erede del mantello ovvero Harry durante la pietra filosofale l'irronne non ha mai detto niente al solito però va bene capitolo 36 siamo alla fine c'è tutta la spiegazione no la bacchetta di Sambuco non ti riconosce come come padrone perché in realtà sono io il padrone tanta roba un sacco di spiegoni che però ci sta perché è bello vedere Voldemort che continua a non capire perché non sta funzionando niente Voldemort nel momento in cui ha ucciso Harry effettivamente non può più fare del male a nessuno è bellissima questa cosa quindi anche ormai già Lee aveva perso si era illuso ma c'è un Voldemort che non può più fare del male a nessuno già sconfitto già sconfitto ma è molto bello che Voldemort alla fine muore come un cretino ma non essere proprio in maniera cioè che il suo corpo mentre cosa mai apprezzata nel film che lui si sbriciola diventa coriandoli no invece qui il grande mago quello che voleva vivere per sempre che quanto c'è avrà 60 anni una settantina quindi non è che ne ha 200 che è già quindi riuscito a superare cioè Voldemort a saperlo forse gli conveniva invecchiare normalmente forse viveva di più però vabbè cioè lui muore come una persona comune col corpo che cade all'indietro ed è proprio miserabile ed è una cosa veramente tanto tanto bella e qui si arriva alla fine all'epilogo intitolato 19 anni dopo ora prima di parlare del contenuto piccolo di 19 anni dopo secondo me è assurdo io non capisco se la Rowling arrivata a quel punto avesse detto basta ho fatto scrivo questa roba e basta non capisco se avesse fretta di finire o se tipo stava scadendo il tempo che gli aveva dato l'editore che lei aveva dato l'editore ma penso che per il finale di Harry Potter un po' di tempo in più glielo potevano dare o forse già l'aveva chiesto tempo in più e noi non lo sappiamo quello che voglio dire è che questa cosa di 19 anni dopo dove ti fa vedere più o meno tutte le coppiette con i figli mi sembra veramente troppo frettoloso perché finisce il capitolo prima finisce con Harry che ripara la sua bacchetta con quella di Sambuco e quella di Sambuco dice va bene adesso la rimetterò nella tomba di Silente così quando io morirò in maniera naturale nessuno potrà più avere la bacchetta di Sambuco perché non ci sarà più un padrone sconfitto questa cosa la dice al quadro di Silente questa cosa dei quadri è assurda che anche Pitone in alcuni flashback con il quadro di Silente dice ok farò questo questa è parte del piano giusto Silente Silente sì sì ma allora a cosa serve la morte in Harry Potter non c'è la morte c'è il quadro tutti quelli di dire ah Silente è scomparso cazzo c'è un quadro che sa le cose di Silente è assurdo veramente assurdo Rolling ha avuto una botta di culo in alcune cose cioè arrivato alla fine di Harry Potter questa rubrica si chiama non sono un pottered quindi non ho paura di dirlo apprezzo l'importanza di Harry Potter nella cultura popolare nell'infanzia nello sviluppo di molti ragazzi incluso me ma secondo me la Rolling ha avuto una botta di culo che questa roba è diventata forse il brand più famoso del mondo perché ha tante di quelle porcate dentro che boh boh io non capisco io non capisco e secondo me la gente non è che si rilegge più di tanto i libri ormai c'è quest'aura di perfezione in Harry Potter quindi secondo me ci sarà una rivalutazione di Harry Potter fra cento anni quando io e voi non ci saremmo più tra cento anni secondo me arriverà qualcuno che dirà ma sapete che forse Harry Potter non è rotta sta gran cosa io l'ho detto sono un precursore dei miei tempi e come tutti i precursori probabilmente verrò lapidato in maniera metaforica per queste mie parole però ci ho fatto dei video su Harry Potter quindi comunque un minimo lo apprezzo comunque quello che volevo dire scusate se mi sono ormai siamo alla fine sono molto emozionato per la fine di questa rubrica durata due anni e qualcosa secondo me la cosa di 19 anni dopo è molto frettolosa ora non lo so secondo me ci voleva un capitolo in più per spiegare come si è come si è stabilizzata la situazione dopo la morte di Voldemort magari fare vedere piccole coppie che si formano raccontare un minimo mi hai fatto due palle così con il matrimonio di Fleur e di Bill Weasley Bill si Bill si e di Bill Weasley però non mi racconti non mi dici nulla di Ron e Dermione che si sposano Ginny ed Harry che per me non ha alcun senso che stanno insieme però vabbè si sposano la nascita del primo figlio non lo so è troppo frettoloso cioè si passa da quando hanno tutti i 17 anni che è appena morto Voldemort ah 19 anni dopo ehi quanti figli hai tu 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 ehi siete tornati ehi ma ci sono Ron e Dermione hanno ben due figli Rose e Ugo ma quello è Draco Malfoy con la moglie di cui non ci ricordiamo bene il nome che forse verrà detto nella maledizione delle rede ma quello non conta non esiste è quello è il suo figlio Scorpius attenzione Rose non fare che poi ti metti con Scorpius perché ehi ma quello è Teddy Lupin il figlio di Tonks è Teddy è Remus non Teddy vabbè che si sta baciando con Victoire che è la cugina Weasley e si chiama Victoire è chiaramente una delle figlie che poi dopo ho scoperto che hanno avuto più di figli è una figlia di Bill e Flair ma guarda tutte queste nuove generazioni che si incrociano si incrociano fra di loro troppo frettoloso troppo frettoloso troppo boh ed è per fortuna che io neanche all'epoca avevo grandi aspettative per Harry Potter perché boh non lo so ditemelo voi che magari siete molto più presi da Harry Potter di me 19 anni dopo vi è piaciuto? e avete detto caspita che bel epilogo sono proprio contento non voglio sapere più nient'altro dei personaggi poi magari non voglio sapere più nient'altro è un po' forte perché qualche fanfiction è uscita però la cosa più importante dei 19 anni dopo la cosa più carina è chiaramente il finale e questo ci posso anche credere che la Rowling dice sempre ci ho pensato sin dall'inizio io posso credere che la Rowling sin dall'inizio del primo libro ha pensato che l'ultima frase sarebbe stata e la cicatrice non gli aveva fatto più male ok ci può stare carino la cosa veramente terrificante sono i nomi dei figli di Harry e Ginny Ginny ovviamente sarà stata d'accordo perché se hanno questi nomi però secondo me è troppo permissiva Ginny in alcune cose me l'hanno sempre rappresentata come una ragazza tosta superforte e poi praticamente ha deciso tutto Harry c'è il primo figlio che si chiama James Sirius ok vabbè padre e padrino il secondo poveraccio ha una serie di nomi terrificanti Albus Severus e poi meraviglia delle meraviglie la figlia Lily Luna Lily Luna Lily Luna Lily Luna Lily Luna è uno scioglilingue è diventato che poi perché Luna perché l'amica di Ginny Luna Lovegood mica è morta perché ha il nome Luna è proprio anche questa questa cosa dei nomi che ognuno dei figli deve avere per forza siccome non voleva fare che avevano sei figli ha detto ok facciamo così i primi due figli hanno quattro nomi importanti e poi la figlia Lily e poi Lily Luna Lily Luna ok terrificante questi nomi sono terrificanti ma poi come se ci fosse un obbligo come se ci fosse l'obbligo di mettere ai tuoi figli il nome delle persone in cui hai voluto bene cioè può succedere ma no a tutti quanti dai dai veramente che poi Ginny a parte credo Luna e Luna non è neanche morta quindi non capisco il perché credo che non abbia avuto nessun nessuna voce in capitolo perché non chiamare uno dei figli Fred è morto un fratello è morto Fred possiamo dare il nome a qualcuno no forse è George che si mette con Angelina che avrà il figlio di nome Fred però ditelo a sto punto boh boh io non assurdo veramente assurdo veramente assurdo però dai è finito questo video quanto dura ma devo durerà un sacco devo farlo uscire per oggi che è Natale presto presto è stato un lungo viaggio io qui ho sclerato tantissimo ma è stato molto divertente Harry Potter finisce qui non farò ripeto mai mai animali fantastici né come si chiama quello schifo la maledizione delle rede mai non me lo non lo farò mai no no è stato bello questo viaggio durato ripeto due anni e qualcosina sono contento di essere arrivato alla fine non sono sinceramente emozionato sono contento di essere arrivato alla fine di tutto questo grazie a tutti voi che avete visto questi video che avete commentato che avete espresso le vostre opinioni non vedo l'ora di leggere quello che pensate di quello che ho detto adesso che ho distrutto Python vabbè grazie di tutto è un pensiero finale scusate questo video sta durando un sacco scusate però un pensiero finale mentre in generale quando ho recensito questi libri ma anche quando ho recensito altri libri su questo canale ho sempre pensato quello che sto facendo io in realtà è molto comodo perché quando tu sei semplicemente un lettore che dà la sua opinione al massimo ci può essere quello che dice perché non l'hai scritto tu un romanzo visto che sei bravo e tu giustamente puoi dire ma non è che uno deve sapere scrivere romanzi per capire che una storia è scritta bene è scritta male poi sono le mie opinioni quindi è molto comodo finché non scrivi un libro non pubblichi un libro che può essere giudicato da altri è molto comodo quindi fare tutte queste critiche no? quindi se io ad esempio tra poco pubblicassi un libro mio da ora in poi le recensioni dei libri potrebbero essere un po' più dure i commenti potrebbero essere un po' più duri perché qualcuno potrebbe dire sì però tu nel tuo libro hai fatto questo questo e quest'altro beh come dire accetto la sfida presto la situazione si evolverà è un po' più duri Grazie a tutti